La Nissa annuncia di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Massimo Ferraro. Sono orgoglioso di poter contribuire alla crescita della squadra della mia città, le sue prime parole in un comunicato diffuso dal club biancoscudato. Ferraro evidenzia, daremo tutto per fare bene e siamo certi che i nostri tifosi ci staranno vicini in questo nuovo cammino. Per Massimo Ferraro si tratta di un ritorno a Caltanissetta, già direttore sportivo nella Nissa edizione 2015-2016, presieduta da Natale Ferrante, promosse in eccellenza. In carico dal quale si dimetteva nel novembre 2016, rimanendo nei ranghi biancoscudati come socio. Dimissioni motivate dalla società per sopraggiunti impegni lavorativi. Un'annata quella, tra le altre da dimenticare per la Nissa, che perdendo la gara play-out al Palmintelli contro il Campofranco, 1-4 dopo i tempi supplementari, retrocedeva mestamente e non veniva iscritta al successivo torneo di promozione, proseguendo l'attività con il settore giovanile. Non ha ancora definito il capitolo allenatore, anche se negli ambienti calcistici della città circola con insistenza il nome di Alessandro Settineri, 46 anni, di Catania. Non proprio esaltante la sua ultima esperienza sulla panchina della San Cataldese in Serie D. Nella stagione appena andata in archivio, Settineri si è dimesso dopo sei giornate e altrettante sconfitte consecutive, lasciando la squadra a zero punti, insieme allo stesso direttore sportivo Massimo Ferraro, oggi alla Nissa, e al direttore tecnico Lirio Torregrossa. L'allenatore catanese, nell'annata precedente, aveva condotto la squadra Verde Amaranto dall'eccellenza alla Serie D, al termine di un campionato caratterizzato dall'emergenza Covid e dal quale si erano ritirate sei squadre.